Dichiarata patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 2005, Casabattio è qualcosa di unico, straordinario, riescerà letteralmente a bocca aperta. Ci sono tre colonine blu, che il biglietto base è argento e noi l'abbiamo preso ovviamente oro, quindi vi mettete in colonna, aspettate il vostro d'ora d'ingresso e poi entrate. E qui come al tour del museo del Camp Nou avremo una sala immersiva, quindi sarà tanta roba. Gli ingressi in questa casa sono ogni quarto d'ora per tutti i pass, per questa casa la fermata della metropolitana è il paese di grafica, voi scendete e praticamente ve la trovate davanti. Sappiate che i bambini al di sotto dei 12 anni entrano gratis per la hall d'ingresso, adesso sono in coda, come potete notare perché ho già queste ondulanze strane e particolari. si parte dall'arte sotterranea. Qua c'è la piattaforma che gira, gira eh? Allora, stiamo girando su questa piattaforma. Chissà! 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 Grazie a tutti. Guarda, cambia colore. Dal video non renderà mai idea. Cioè, spettacolare. Ci hanno dato questa giugida e diamo anche le cuffie per sentire ogni singolo corrispondente del posto si ascolta la storia. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.